Ci troviamo al Teatro Marcello Perracchio, il Teatro Comunale di Ragusa, devo dire proprio il giorno del compleanno del grande attore ragusano nato a Modica ma che ha lavorato tanti anni al Teatro Stabile di Catania, conosciuto forse in tutto il mondo come il Pasquano del Commissario Mondalbano ma comunque noi lo conosciamo per tante altre attività, oggi avrebbe fatto 81 anni. Gli facciamo tutti gli auguri naturalmente. Grazie Marcello per quello che hai fatto e per quello che sei stato per tutti noi, per noi è stato un grande amico veramente. Soprattutto per quello che è stato per noi perché sarebbe stato qui a vedere la prova delle ragazze e avrebbe detto tante cose. Avrebbe detto ma che cavolo me lo fa fare? E vabbè, siamo qua Marcello e sempre noi ci aggrappiamo con i denti e con le unghie a tutto. Siamo qui, come sai, per la ripresa di un grande successo estivo che abbiamo debuttato con questo spettacolo al Castello di Donna Fugata l'anno scorso in estate e si tratta della Casa di Bernarda Alba di García Lorca. È un testo fondamentale, l'ultimo testo del grande poeta, dopodiché venne fucilato come tutti sanno e lui non vide mai la messa in scena di questa rappresentazione e che fa parte della famosa trilogia di sangue. I hermanoze di sangue è appunto la Casa di Bernarda Alba. Una rappresentazione tutta al femminile, la protagonista è la Federica Bisegna. La madre, tiranda, naturalmente. Che conoscete tutti ma che sicuramente avrà qualcosa da dire. È un personaggio meraviglioso che ho sempre desiderato di fare perché Federico García Lorca è in assoluto il mio autore preferito, è il poeta più grande per me, almeno per me il più amato e quindi era un sogno che rincorrevo da tanti anni e finalmente l'estate scorsa abbiamo deciso di scommetterci con un testo che mette soggezione come giusto, come quando si mettono in scena capolavori così grandi di autori così immensi. Quindi ci siamo avvicinati in punta di piedi ma allo stesso tempo con un grandissimo entusiasmo perché tutte le attrici sognano di recitare almeno una volta García Lorca e in particolare questa straordinaria storia. Ho scelto un momento felice del laboratorio della Compagnia Godot perché ho avuto la possibilità di lavorare con tante brave giovani attrici che sono le nostre allieve di cui alcune di loro hanno già iniziato a fare i primi passi da attrici, da giovani attrici di talento come Giulia Guastella per esempio che è Reduce da un grande successo con Idonia ma non ammessa e che è con noi da dieci anni e poi tutte loro che lavorano ancora con noi abbiamo Federica che è la terribile martirio, la sorella più tormentata o Magdalena che è la Benedetta, la più dolce ci sono veramente tutti i caratteri la grande ribellione di Adela che è Benedetta, D'Amato che rappresenta appunto la voglia di sognare, di amare, di fuggire da questa gabbia che ha determinato la madre schiava delle convenzioni racconta una Spagna rurale dei primi del Novecento dove si doveva seguire per forza certe convenzioni e poi Sara che sarà invece la Poncia che è l'unica che cerca un po' di sfidare la madre e un ruolo molto più grande della sua età devo dire che è stata molto brava e poi Michela, Monica e Alessandra che sono le vicine, queste donne le donne che parlano, che spiano, che dicono e poi Anna Rita che è la serva un altro pilastro della casa e Graziana che invece è Amelia un'altra delle figlie e poi abbiamo questo personaggio emblematico della nonna, mia madre interpretato da Rossella Maria Cosefa, la madre pazza, anzianissima che lei poi insomma si trasformerà sulla scena e rappresenta la libertà della follia perché solo quando siamo folli possiamo sentirci veramente liberi di urlare tutto il nostro essere e poi c'è la coppia delle due zingare e per concludere abbiamo questa bella zingare interpretata da Gaia con la sua bambina che è la piccola Marisol è sabato 19 alle 21 e domenica alle 18 e la prevendita? la prevendita da Beddamaci che non so se si dice Beddamatri o Beddamaci mi correggerà vi aspettiamo e volevo dire che veramente fare questo spettacolo è emozionante e provare mi provoca sempre dei brividi anche se proviamo, riproviamo non riesco a trattenere i brividi perché è bello vedere questo rapporto con le sorelle e soprattutto capire che quando qualora potevamo essere l'una la salvezza dell'altra nel momento in cui c'è la passione, il desiderio possiamo essere invece la fine dell'altra e la morte dell'altra quindi venite, vi aspettiamo saremo tremende è vero e l'appuntamento è in questo teatro al teatro Marcello Perracchio di Ragusa